L'Italia con il bomber Gori, il capitano ad un zocchio dalla segnatura, lotta, combatte e fa qualcosa di spettacolare! Fa qualcosa di spettacolare! C'era questa balla diagonale, la fitta di Gori e la mette dentro! E' opportunista! La terza segnatura! Attenzione, hanno perso la marca, dov'è esser visto? Accorcia! Oh oh! Chissà se Gori punta al... Ma che bella azione! Ma che bella azione! Ci sono quattro Gori! Sì, 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 sì! In gol! Attenzione! E' la mano di Gori! La mano di Gori! La manetta! E' la mano di Gori! Oh! E fa gol da lontano con dedica E il papino sottomisura D'acqua il capitano della Norvegia Il pallonetto è una grande palla muota Il pallonetto è molto veloce La stoppa è... Ciao mattino! Ciao! 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 Ciao!